Buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi. Dunque, oggi, come sapete, siamo qui per parlare di un libro, Persepuzione e martirio dei Templari, 1307-1314, di Carlo Castignani. È un libro edito dal Centro di Studi Storici Nonantolani per i tipi delle edizioni Il Fiorino di Modena. È un libro molto interessante, ci sono nuovi documenti, c'è una rilettura di questo grande e strano fenomeno, rimasto molto nell'immaginario, come si dice, di tutti noi, che è stata la soppressione di un ordine religioso militare, da parte di un re di Francia, Filippo detto il Bello. Ed è una soppressione assolutamente violenta, che ha lasciato dietro un ricordo sia di dolore, ne parla anche Dante a un certo momento, perché è praticamente contemporaneo, ma anche una sorta di leggenda, che a volte non si capisce bene se sia puro mito o se sia documentata, e direi più la prima ipotesi della seconda. Non abbiamo con noi Carlo Castignani oggi l'autore, perché purtroppo per una malattia che lo ha di recente colpito non può essere qui. Noi gli poggiamo i più fraterni auguri per una pronta remissione e naturalmente il nostro cordialissimo e affettuosissimo saluto. Ve lo presento, Carlo Castignani è un ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano, ha affiancato la sua professione con un'intensa attività di studio, tant'è che questa cosa ha lievarsi alla nomina sia deputato della deputazione di storia patria per la Marche, ha lievarsi anche l'associazione al socio del centro di studi storici maceratesi, che tra l'altro ringrazio questo centro perché ha collaborato molto cortesemente a questa presentazione. Dal 2009 l'attenzione di Carlo Castignani si è rivolta soprattutto alle vicende dei Templari e anche agli insediamenti della milizia Templi nelle Marche, oltre che naturalmente alla loro generale vicenda. Parla invece di questo libro la professoressa Simonetta Cerrini, che vi presento, è una storica medievista, è specializzata in storia della spiritualità dei laici nel Medioevo e in storia dei Templari. Ha sostenuto una tesi di dottorato all'Università Parigi Sorbonne sulla spiritualità e sull'origine di questo ordine e tra l'altro ha prodotto l'edizione critica delle regole dell'ordine stesso, dell'ordine del Tempio. Ha insegnato in diverse università francesi, a Mizza, a Sergi-Pontoise, a Boulogne-sur-Mer, dove fu anche Ugo Fosco, se ne ricordo, molto tempo dopo, i Templari, quando militare napoleonico, quando si progettava l'invasione poi mai avvenuta della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, e ha insegnato anche alla scuola di post-dottorato della Pontificia Università Antonianum di Roma. Simonetti Serini è una delle maggiori autorità internazionali sui Templari, abbina all'attività di conferenziere, a quella di consigliera scientifica di eventi storico-artistici o teatrali, alcuni trasmessi di recente anche dalla RAI. Ha pubblicato diversi libri, La Rivoluzione dei Templari, tradotto in l'originale francese, La Rivoluzione dei Templi, in italiano, spagnolo, romeno e cieco. Ha scritto poi L'Apocalisse dei Templari, Mondodori 2012, La Passione dei Templari, Mondodori 2016, che è diventato in Francia per Flammarion, Le Dernier Jussement des Templiers, dove tra l'altro c'è una prefazione di Franco Cardini, almeno nell'edizione italiana, che ha parole di grande stima nei suoi confronti. Tanti ricordo un libro comune, recentissimo, comune di Simonetta Serini e di Franco Cardini, storie dei Templari in otto oggetti. Si esaminano otto oggetti tipici di questa milizia e da lì se ne ricostruisce in qualche maniera la storia. Io qui posso tacermi e lascio volentieri la parola alla professoressa Cerini. Grazie al dottor Guccioni e grazie all'Istituto Pesarese di Studi Storici e a tutti quelli che mi hanno invitato. E un grazie particolare a Carlo Castignani, a cui devo prima di tutto le mie scuse, perché come avete notato il suo libro è stato pubblicato già nel 2019 e adesso siamo nel 2022 e io ho tardato vari anni prima di poterlo veramente presentare. Infatti solo recentemente l'ho consultato naturalmente in questo periodo, ma l'ho letto integralmente solo nell'ultima settimana. Ecco, è un libro estremamente importante, ma lo definirei un libro utile per gli studiosi, ecco, cosa che non è affatto scontata quando si parla di libri scritti sui Templari. E prima però di cominciare questo racconto, questa conversazione a proposito appunto dei Templari vorrei precisare alcune cose che li riguardano, alcune cose assolutamente generali, proprio per costruire un piccolo quadro di riferimento che possa essere utile a questo nostro incontro. Ecco, quindi i Templari, come è già stato detto, appunto furono il primo in realtà ordine religioso e insieme militare della cristianità latina. Con latina intendo appunto la cristianità occidentale, quindi quella che era nata dallo scisma del 1054 con la chiesa greca. Infatti nacquero nel 1120 a Gerusalemme e furono costituiti da un gruppo di cavalieri, tra i quali i primi e i primi e i più importanti, quindi diciamo così i fondatori, furono il cavaliere della Champagne Hugues de Pain e anche il cavaliere fiammingo Godefoy de Saint-Omer. Diciamo da questo gruppo, da questa confraternita di cavalieri appunto nacque il primo ordine religioso, in che senso? Nel senso che nel 1120 appunto furono diciamo sottomessi all'autorità diretta del patriarca di Gerusalemme, a lui pronunciarono i voti e le promesse di castità, di povertà e di obbedienza, quindi tre voti monastici e ricevettero proprio in quell'anno da parte del re di Gerusalemme, Baldovino II, la loro sede. Qual era la loro sede, la loro casa madre? Era quello che i pellegrini chiamavano il Tempio di Salomone, da qui capirete è sorto il nome dei Templari, qui sorsero i Templari. Il loro nome ufficiale fu poi tramandato dalla loro regola che venne concessa appunto ai Templari nel 1129 a Troyes, durante il concilio di Troyes nella Champagne, alla presenza del legato del Papa, ma anche della grande e importantissima figura di San Bernardo e quindi in quell'occasione proprio nella regola vengono chiamati come poveri compagni di battaglia di Cristo e del Tempio di Salomone, oppure più brevemente appunto Milizia Templi, Cavalleria del Tempio. Poi Milizia, tradurlo con Cavalleria, bisogna sempre mettere tutto tra virgolette perché non è mai esattamente così, però diciamo si può dire. Nel 1139 poi i Templari furono, diciamo, sottratti dall'autorità al Patriarca di Gerusalemme perché il Papa avvocò a se stesso la suprema autorità sull'ordine e quindi in quel momento divennero veramente un ordine molto più strutturato e internazionale. Ecco un'altra caratteristica importante è che i Templari furono un ordine soprattutto internazionale, mentre si ha la tendenza a conoscerli come un ordine essenzialmente francese, non fu esattamente così, infatti si diffusero appunto in tutta Europa. Poi noi sappiamo bene che questo ordine fu un ordine religioso, quindi i Templari erano essenzialmente dei religiosi esattamente come i Benedettini, i Francescani, i Domenicani, i Gesuiti, i Cistercensi e così via. È molto difficile per noi oggi pensarli in questa dimensione ma questa era la loro dimensione essenziale. Il fatto che fossero dei cavalieri in gran parte è una cosa, è un'aggiunta, ecco diciamo una cosa che ne ha causato la specificità e anche l'originalità assoluta e anche il paradosso perché che esistessero comunque dei religiosi che al tempo stesso combattevano era comunque una grandissima novità spesso percepita come disastrosa o comunque come estremamente negativo come fatto della Chiesa. Ma poi queste critiche diciamo che il esempio subì fin dalla sua origine si tramutarono invece alla fine del XIII secolo in vere e proprie accuse e qui comincia diciamo la storia della fine dell'ordine che quindi è il tema a cui è dedicato proprio il libro di Carlo Castignani. In particolare ci fu un anno molto importante da segnalare che fu nel 1291 appunto la caduta di Acri. Questo fatto che cosa segnalò? Segnalò la fine della presenza essenzialmente, la fine della presenza dei latini, degli occidentali in Siria Palestina. Rimasero però a Cipro dove infatti il Tempio posò l'ultima sua dimora centrale, l'ultima casa madre del Tempio fu appunto a Cipro. Perché la storia però della fine dei Templari come mi scriveva il grande storico francese Philippe Contamin che è mancato qualche mese fa e che è stato un grande, un grandissimo studioso della storia della guerra, della società guerriera meglio del Medioevo e che è stato anche il mio presidente del mio jury di tese alla Sorbona e quando appunto gli ho inviato il mio volume La Passione dei Templari mi ha risposto, mi ha scritto appunto ricordandomi che loro fin ha assuré loro nomi. Quindi è stata proprio la fine dei Templari, c'è stato questo fenomeno straordinario nell'immaginario collettivo per cui la fine dei Templari ha assicurato loro il successo mediatico per così dire, la fama, il fatto che siano così conosciuti ancora oggi. Meglio, non sono affatto conosciuti i Templari ma sono molto noti, ecco sono molto noti e sono molto poco conosciuti. Quindi per venire invece al nostro argomento che è appunto quello della fine dei Templari dobbiamo, tanto ho notato una cosa molto particolare che sia Carlo Castignani che me per iniziare proprio ad occuparci dei Templari siamo stati per così dire guidati da un libro molto particolare che è questo che vi mostro ora, Il rogo dei Templari di Georges Bordonov. Come vedete la mia edizione è molto vecchia, si trovava nella libreria di mio suocero e infatti quando mi stavo dedicando in realtà a studiare per la mia tesi tutt'altro argomento, cioè l'influenza della cultura italiana in Francia nel tardo medioevo, il XIV e XV secolo, cambiai idea e grazie anche all'indicazione di mio marito e a questo libro di mio suocero decisi appunto di dedicarmi totalmente alla vicenda di quest'ordine. E quindi questo libro guida, il libro galeotto fu proprio questo volume di Georges Bordonov. Però prima di, ecco il tema della fine dei Templari, del processo ai Templari o meglio dei processi ai Templari è un tema estremamente complesso, proprio difficilissimo, complessissimo, molto lungo. Questa vicenda è stata definita come il primo grande processo politico della storia europea. Senz'altro fu un fatto enorme, con un'enorme quantità di materiale documentario diciamo che ci è pervenuto, tantissimi anche documenti che non ci sono giunti, naturalmente non ci è giunto tutto, e quindi bisogna però trovare delle guide per poterci addentrare in quello che è un vero e proprio labirinto. e le guide quindi che io consiglio e che senz'altro anche Carlo Castignani appunto conosce e ha utilizzato partono da, a mio parere, ecco, da quella che definisco la Bibbia dei Templari. Ecco, la Bibbia dei Templari per me è, spero che lo vediate, è questo libro, il lavoro di Alain de Mourget, anche i Templari per Garzanti, l'edizione, questa è del, credo, del 2005, l'ultima edizione, e che però in Francia conosce anche un'edizione, ultima edizione del 2014, come vedete, l'Etamplier. Alain de Mourget lavora, credo, dall'87 a scrivere e riscrivere questo libro, e quindi dona senz'altro il quadro più semplice e chiaro di tutta la storia dei Templari, le loro origini, come la loro fine, insomma, è l'opera più completa, a mio parere, ed equilibrata anche che vi vorrei indicare. Naturalmente, sul tema specifico proprio del processo dei Templari, invece dobbiamo partire dal libro su, appunto, il processo dei Templari di Malcolm Barber, che avevo qui e che adesso, eccolo qua, The Trial of the Templars, ecco qui. Anche questo bisogna cercare sempre l'ultima edizione, perché questi autori sono autori che continuano a lavorare tutta la loro vita su questi temi, e quindi ogni edizione nuova è ricca di nuova bibliografia e di nuovi cambiamenti, poi si cambia idea, naturalmente, perché arrivano nuove cose e obbligano a riscrivere quello che si era scritto prima. È un lavoro in fieri sempre, un work in progress il lavoro di uno storico, di uno studioso. Poi sono molto importanti anche i due saggi, i saggi in particolare di Barbara Frale, che ha fatto la sua tesi proprio, la dedicata proprio ai Templari, al processo ai Templari, e qui ne ho uno, come libro ne ho uno, il papato, il processo ai Templari, l'inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomatica pontificia. Eccolo qui. E poi ce n'è anche un altro, il suo, che è dedicato all'ultima battaglia dei Templari, dal codice ombra d'obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia. Viella, ultima edizione 2007, almeno che io sappia. Ecco, Barbara lavora proprio in particolare sul punto di vista, diciamo, del Papa all'interno di questo, del lungo processo. E come vedremo, Carlo Castignani in parte d'accordo e in parte no, come è naturale che sia, proprio sulla posizione, sulla figura del Papa rispetto ai Templari. Ok. Poi abbiamo due volumi miscellanei che raccolgono gli atti, atti di, sono volumi appunto collettivi, e uno si chiama The Debate of the Trial of the Templars, pubblicato nel 2010, e l'altro si chiama La Fin de l'Ordre du Temple, pubblicato nel 2012. Ho quasi finito, ma questo è indispensabile, queste sono le guide, i virgili, che diciamo che possono aiutarvi ad addentrarvi in questo, che possiamo definire un inferno per i Templari. E quindi ricordo qui il lavoro di Alain de Mourget, naturalmente bisogna ricordare anche La Persecution des Templiers, che Carlo Castignani ricorda bene, in cui ricorda bene anche il titolo, perché proprio è perfettamente in linea anche con il suo, Persecuzione e martirio dei Templari, in cui però Alain de Mourget si limita, diciamo, limita tra virgolette, perché ha grandissime novità, ma si limita al periodo 1307-1314 per i Templari però di Francia, diciamo, quelli catturati appunto dal re di Francia. E recentemente Alain de Mourget ha ancora pubblicato, questo importante volume che si chiama Le Peuples Templiers, questo è stato pubblicato proprio nel 2019, in cui, come vedete, non è un libro da leggere, ma è da consultare, perché ha raccolto le schede biografiche di tutti i Templari nominati all'interno dei processi appunto sempre francesi. Adesso siamo quasi arrivati, ecco, vi stavo parlando, ecco, Alain de Mourget ha anche dedicato un'importante biografia a Jacques de Molay, anche questa è tradotta in italiano, e sempre per restare su Jacques de Molay, con la citazione e anche l'edizione di molti documenti importanti alla fine dell'opera, è questo Jacques de Molay di Philippe Josseran, grande studioso appunto dei Templari e che ha dedicato questa importantissima biografia a tutte le vicende di Jacques de Molay, ma non solo del Jacques de Molay storico, ma anche del Jacques de Molay, che è diventato un personaggio, quindi, lo accennava prima appunto, c'è anche una importantissima leggenda che è sorta proprio dalle ceneri, per così dire, dell'ultimo gran maestro, Jacques de Molay, il ventitresimo, che appunto è stato, è morto sul rogo, l'11 marzo, più probabilmente del 18 marzo del 1314, a Parigi, su un isolotto della Senna. Da queste ceneri nacque una leggenda strabiliante che ha dato vita a innumerevoli creazioni nel campo della letteratura, del teatro, dell'arte, ma non solo, e anche del cinema, perché poi ci sono stati grandi apporti anche del cinema. Ancora un volume, poi finisco, e poi passiamo al processo dei Templari. Un'altra opera essenziale, collettiva, è questo Dizionario europeo degli ordini militari nel Medioevo, pregare e combattere, curato appunto da Philippe Jusseran e da Nicole Berrioux. Qui, per esempio, trovate alla voce processo dei Templari una voce molto importante curata da uno degli studiosi più innovatori sull'ordine del Tempio, che è Julien Théry, che propone una tesi molto interessante sul perché Filippo il Bello ha voluto veramente distruggere i Templari. Abbiamo finito, ci sono poi vari interventi, grandissimi studiosi che hanno lavorato su questo e poi mi riservo una cosa su Clemente Quinto. Come procede a questo punto? Come Carlo Castignani si inserisce all'interno di questi studi? Intanto sceglie, appunto il fatto del titolo mi sembra già determinante, cioè scegliere di chiamarlo persecuzione e martirio dei Templari vuol dire che sceglie l'ipotesi che i Templari fossero stati innocenti, ecco, quindi parte da lì. Però le domande che uno si può porre sui Templari sono varie e soltanto ci si chiede i Templari erano colpevoli o innocenti? Poi ci si può chiedere perché il re di Francia li fece arrestare? Per il loro mitico tesoro o per altre ragioni? Ci si può chiedere quale fu il ruolo di Papa Clemente Quinto? E poi, infine, i Templari furono veramente aboliti, furono aboliti o anche furono condannati? E infine ci si può chiedere i Templari sono sopravvissuti? Queste sono alcune delle domande giusto che uno si può porre. Ecco, forse il dottor Guccioni voleva intervenire a questo punto. Ecco, ho stremato tutti con questo elenco bibliografico. No, in effetti, perché quello che è particolarmente interessante in questa faccenda è che dietro non si capisce la razio alla fine. Il re di Francia stermina questo gruppo perché, d'accordo, non è sterminio, saranno 100-150 morti, ma ci va molto vicino. Lo annienta, lo accusa di eresia, una accusa che da quello che ho potuto leggere non è particolarmente fondata, direi, li accusa di praticare la sodomia, di adorare un'immagine forse demoniaca, sicuramente non religiosa, di non consacrare l'ostia. Cioè, tutta una serie di cose che alla fine non si capisce che consistenza abbiano. Anzi, si posso dire, facendo da avvocato del diavolo, in effetti, l'ipotesi che può sembrare più ragionevole è che ci sia stato qualche caso di sodomia, di amori omosessuali che è stato amplificato, ma non giustifica in ogni caso, anche agli inizi del XIV secolo, non sembrerebbe giustificare un annientamento di questa portata. tanto più che ricordo un particolare Dante durante la pandemia mi sono riletto la Divina Commedia che è stata una vera delizia, Dante è molto leggero verso i peccati della carne, non sono i più gravi, né in paradiso né all'inferno. Si può ragionevolmente pensare che interpretasse un sentire comune di quel tempo. Certo, facendo da avvocato del diavolo mi viene da chiedersi ma cosa ci sarà stato di vero? Ecco, questa è una domanda effettivamente che tutti gli studiosi si sono posti. però per poter rispondere ultimamente sono dell'idea come che condivido con Alain de Mourget dell'idea portata avanti da Julian Théry e cioè che sia impossibile far riferimento, considerare diciamo queste accuse come vere e soprattutto come le confessioni degli stessi templari come vere perché semplicemente sono inserite in un procedimento come un tritacarne diciamo per cui non potevano non potevano fare altrimenti diciamo che che confessare così ecco soprattutto soprattutto in Francia per come si sono messe le cose in realtà il che non vuol dire che possano essere innocenti è che non possiamo neanche considerarle prenderle in esame per così dire a parte il fatto che la serie di accuse è stata ormai stabilita che fa parte faccia parte comunque di un dossier antieretical già bello pronto diciamo già bello pronto da cui appunto soprattutto i consiglieri del re tra cui ricordiamo lo scomunicato Guillaume de Nogaret hanno preso hanno preso varie cose hanno assemblato diciamo così questo dossier contro i templari che peraltro avevano in parte già utilizzato anche contro Bonifacio VIII perché anche contro Bonifacio VIII Filippo il Bello voleva intentare aprire un processo addirittura un processo alla sua memoria perché fosse considerato anche lui eretico perché il suo cadavere fosse riesumato e condannato e quindi bruciato poi e portato in terra non consacrata quindi dietro anche al processo ai templari appunto Carlo Castignani non ritiene così importante questa velina diciamo che scorre dietro al processo dei templari però a mio parere invece ebbe un ruolo comunque estremamente importante quindi Carlo Castignani procede in questa selva oscura procede per anno quindi decide di raccontare diciamo le vicende anno per anno a partire dal 1305 data dell'elezione comunque del al soglio pontificio di Clemente V fino appunto al 1314 data della morte sul rogo di Jacques Desmollet dell'ultimo gran maestro procede e fa una cosa che resta è determinante anche molto utile per tutti gli studiosi che è di dotare il suo volume di un appendice documentaria molto lunga e sono più di 50 documenti 50, 60 o 70 documenti circa alcuni numerati altri poi divisi in singoli atti di cui alcuni che alcuni sono stati scoperti da lui e altri invece sono stati trascritti integralmente da lui mentre si trovano magari pubblicati solo parzialmente in altre fonti a stampa quindi sono già conosciuti dagli studiosi quindi ha costituito questo diciamo a mio parere è l'aspetto più rilevante del suo lavoro che è quello di mettere a disposizione degli studiosi un corpus diplomatico per dire documentario ricco interessante e in parte che contiene delle novità che sono rilevanti Senta ma se mi permette una domanda io quando penso a un ordine cavallerisco a una milizia di questo tempo di questo tipo mi immagino sostanzialmente un gruppo di nobili poi magari con la loro servitù attorno e come è stato possibile che questa cosa non abbia fatto in qualche modo da spudo anche davanti alla fortissima volontà di annientamento che il re di Francia mette mette in campo beh intanto tutti i templari non erano tutti i nobili poi c'è qualche differenza tra nobili e cavalieri diciamo non c'è una sovrapponibilità perfetta tra i due termini comunque si è i templari in generale erano tutti fratres così si nominano l'uno con l'altro quindi frati templari fratelli e tra di loro però si dividevano intanto in frati cavalieri e avevano gli unici ad avere il diritto a portare il mantello bianco poi abbiamo i frati sergenti che avevano che dovevano portare il mantello molto scuro o nero o di bigello come si dice e poi avevamo abbiamo i frati sacerdoti preti cappellani che aveva che dovevano anch'essi portare il mantello nero o di bigello questo è già interessante perché ci mostra quindi un ordine di per sé non clericale per così dire perché il capo dell'ordine religioso in quel caso era sempre un cavaliere quindi era sempre il gran maestro era un cavaliere templare quindi aveva l'abito bianco e il capo dell'ordine normalmente in un altro ordine religioso era invece un sacerdote un chierico tra virgolette faccio notare una piccola eccezione che però riguarderà solo la fine appunto dell'inizio del tredicesimo secolo di fatto la fine del dodicesimo fine del dodicesimo quando nacque San Francesco d'Assisi allora Francesco d'Assisi invece volle restare laico cioè non divenne mai sacerdote meglio perché prese solo gli ordini minori e quindi noi abbiamo un capo di un ordine per la prima volta dopo tanti secoli di un ordine religioso che non era un sacerdote che non era un prete quindi la novità diciamo francescana in senso laico della spiritualità dei laici la vediamo però ben anticipata dall'ordine dei templari curiosamente quindi c'è un legame diciamo tra questi due ordini però per tornare alla quindi abbiamo i laici quindi i templari di per sé non erano tutti cavalieri e in particolare in Europa abbiamo una maggioranza come si vede poi dagli atti dei processi una maggioranza di sergenti i sergenti si dividevano in sergenti d'arme in questo caso sia combattenti quindi sia a piedi che a cavallo che però non erano stati addobbati cavalieri ma erano ugualmente dei combattenti e in sergenti di mestiere che invece svolgevano varie attività da quella diplomatica il tesoriere da tesorieri anche i tesorieri dei re di Francia e d'Inghilterra per esempio erano dei dei templari oppure svolgevano appunto altre attività di mestieri non so si occupavano il cuoco era un frate sergente o avevano altre mansioni diciamo non militari quindi tranne che nella penisola iberica dove invece abbiamo ancora una maggioranza in effetti di cavalieri frati cavalieri logicamente perché anche lì era un fronte insieme a quello orientale medio orientale anche nella penisola iberica c'era un fronte di combattimento dove combattevano ecco però certo c'erano legami familiari anche enormi e soprattutto faccio l'esempio dentro della penisola iberica di proprio di famiglie famiglie molto legate sia ai re re d'Aragona ad esempio che ai templari ne facevano parte erano proprio fratelli figli nipoti eppure questo ad esempio non servì non servia non fu sufficiente a impedire l'assedio delle fortezze templari nella penisola iberica in Aragona in particolare da parte appunto del da parte del re Giacomo II quindi non fu sufficiente un altro punto che lascia molto perplessi è ovviamente la figura del Papa che dopo qualche iniziale pare perplessità finisce con lo schierarsi totalmente con il re di Francia non solo ma ho letto del concilio di Vienne se ben ricordo dove tutto sommato non si ottiene una condanna dei templari però poi le cose procedono verso la condanna giuridica l'esecuzione l'assassinio diciamo come vogliamo dei principali esponenti è verso lo scioglimento dell'ordine è una conseguenza del fatto che sta avviandosi la chiesa vignonese direi beh direi che la chiesa vignonese è un po' una conseguenza diciamo di più che una causa però qui a questo punto bisogna fare un attimo di chiarezza e quindi chiederei un pochino l'attenzione perché se no non si riesce a procedere secondo la logica interna delle cose e quindi diciamo che ci furono più processi il primo processo fu avvirato senz'altro dal re di Francia Filippo IV il Bello che venerdì 13 ottobre 1307 grazie a un'operazione di una retata di polizia straordinaria con un grandissimo successo avviata in tutta la Francia nello stesso contemporaneamente che dimostrò come era già ricco dal punto di vista istituzionale il regno di Francia in quel momento come già era efficiente riuscì quindi a catturare tutti i templari del suo regno e a far confiscare tutti i beni dei templari questa gigantesca operazione di polizia fu quindi avviata di fatto dal re di Francia però lui dovette usare come intermediario l'inquisitore del re di Francia che a sua volta dovette dirsi che disse che doveva essere in teoria autorizzato da Papa Clemente V in realtà questa autorizzazione all'inquisitore di Francia a procedere all'arresto dei templari del regno di Francia e quindi ad affidare al braccio armato tra virgolette della chiesa che in quel momento era re Filippo IV il Bello l'atto materiale di arrestare i templari e confiscare i loro beni questo fatto di fatto questa autorizzazione del Papa non ci fu quindi questo atto primo fu illegale tant'è vero che Dante nella Divina Commedia parla di Filippo il Bello come di colui che senza decreto portò nel tempio le cupide vele quindi questo fatto dell'illegalità era diciamo già un fatto conosciuto però visto che l'inquisitore di Francia era anche il confessore di Filippo il Bello ed era anche appunto legato ovviamente legato al Papa lì si creò quel pasticcio di cui volutamente Filippo il Bello approfittò perché poteva utilizzare questo strumento e perché si parlò di eresia perché solo tramite l'accusa di eresia il re Filippo IV Filippo il Bello poteva accusare i templari cioè non poteva accusarli di un'altra cosa e intanto non li accusava lui ma li faceva accusare dall'opinione pubblica perché si diceva per l'infamia c'era un'infamia ci sono dei detti contro i templari che fanno sì che si possa scatenare questo processo di tipo inquisitoriale perché l'ha fatto perché l'eresia era un crimen lese maiestatis fin dall'impero romano quindi era l'eresia è l'unico diciamo è un atto d'accusa che un re poteva fare intanto perché era un era un l'eretico è qualche d'uno che è contro lo Stato e contro la Repubblica quindi in questo caso l'eretico mina le fondamenta del regno di Francia questa era la sua visione politica della cosa e dal suo punto di vista naturalmente e re Filippo poteva farlo senza rischiare nulla ecco questo è anche un altro punto importante perché in un accuso in un tipo di processo inquisitoriale l'accusatore vero è il popolo in realtà è la cattiva fama cioè si dice che ci sono dei testimoni che dicono che i templari facciano queste cose orrende come ha ricordato lei che sputino sulla croce che abbiano rinnegato Cristo che ci sia un'istigazione alla sodomia che adorino un misterioso idolo e che i preti templari non consacrano l'ostia ecco queste erano le accuse che aveva formulato Filippo il Bello ma dicendo che non lui lo diceva ma lo dicevano degli altri era una cattiva fama quindi non accusandoli lui in prima persona non poteva ed essendo un processo di tipo inquisitoriale nel processo inquisitoriale se anche poi l'imputato fosse riconosciuto innocente non ci si poteva rivalere contro chi lo accusava ecco qual è il punto mentre mentre in un processo di tipo accusatorio di tipo normale diciamo così normale per come si era rivelato fino ad ora se io ti accuso di essere un eretico e tu mi dimostri che eretico non sei e sei innocente la tua stessa accusa sarà rivolta si rivolterà contro di te e questo Filippo il Bello non poteva permetterselo questa è la ragione dell'eresia dell'accusa di eresia dopodiché che cosa è successo quindi il Papa subito si arrabbia con il Re ma come dice appunto Carlo Castigliani mi ha fatto un po' riflettere con gli altri suoi documenti di cui alcuni non conoscevo Senovra è scritto diversamente e molto succede molto presto che il Papa Clemente V in realtà si accodi all'opinione negativa sui Templari da parte del Re Filippo IV il Bello quindi c'è un avvicinamento molto più rapido prima di questo avvicinamento però che cosa succede succede che il Papa a mio parere che non è il parere di Castigliani nell'intenzione comunque di riprendere in mano le redini del processo lo estende a tutti i regni cristiani lui in quanto superiore di tutto l'ordine dice vabbè adesso hai fatto questa cosa non sono d'accordo però la cosa voglio che ritorni in mano mia quindi sospende l'inquisitore di Francia dai suoi uffici e indice questa bolla promulga questa bolla che si chiama Pastoralis Preminensie di cui Carlo Castigliani ha trovato studiato un nuovo documento e qui passiamo al documento 23 e al documento 24 li possiamo vedere anche in sequenza ecco questo è il documento 23 archivio di stato di Torino è la bolla inviata al conte Amedeo di Savoia in particolare e poi abbiamo il documento 24 la stessa bolla che si trova adesso copia l'archivio di stato di Milano che invece il Papa invia a quattro inquisitori domenicani e lombardi Carlo Castigliani nota delle differenze importanti tra questa bolla che adesso non abbiamo il tempo naturalmente di vedere però questa bolla è importante perché appunto segna l'inizio vero inizio dei processi del Papa quindi dell'inchiesta del Papa che comincia dopo l'inchiesta per così dire del Re e inizia appunto il 22 novembre del 1307 poi che cosa succede? nel 1300 a mio parere Jacques de Molay e a mio parere è anche di altri studiosi Jacques de Molay alla fine di dicembre ritratta le sue confessioni perché tutti confessano chi più chi meno lui ritratta e Carlo Castigliani invece pensa che siano documenti diciamo falsi non non veri e nel 1308 che cosa succede? del Papa attraverso una bolla un'altra bolla che è la Facens Misericordiam nel 1308 istituisce due tipi di processi questo è molto importante uno rivolto all'ordine del Tempio in sé l'ordine del Tempio in sé quindi sarà giudicato da chi quindi da varie commissioni pontifice quindi istituite dal Papa che si troveranno in Francia in Italia in Spagna in Inghilterra in Germania e così via a Cipro e così via e cosa dovranno fare? Potranno giudicare il Tempio? No dovranno semplicemente raccogliere le deposizioni di testimoni e di templari raccoglierle e poi farle avere al Papa e ai padri del concilio che lui ha convocato a Vienne in terra d'impero quindi in terra abbastanza neutra tutto sommato e lì i padri del concilio pronunceranno la sentenza nei confronti dell'ordine del Tempio e diranno se il Tempio è innocente o colpevole punto poi istituisce una serie di altri processi questa volta diocesani legati appunto alle varie diocesi della cristianità a cui affida invece il compito di giudicare questa volta se i templari singoli templari sono colpevoli o innocenti e deve comunque far sapere ovviamente tutte le varie commissioni diocesane devono far sapere al Papa che cosa hanno deciso di fare ora naturalmente questi due procedimenti si sovrappongono spesso e causeranno gravissimi danni Castignani studia in particolare i processi che si sono svolti in Italia e in Italia fa emergere la figura una figura molto importante del francescano arcivescovo di Ravenna francescano Beato Rinaldo di Concorezzo che morì tra l'altro nel 1321 a Ravenna quindi poco tempo prima di Dante e questa figura fu una figura luminosissima nella storia anche della storia giuridica dell'ordine perché a differenza di quanto poi volle il Papa concretamente cioè ordinò più volte che i templari fossero torturati e poi ritorturati perché non riusciva ad ottenere delle confessioni pari a quelle che erano state ottenute con facilità nel Regno di Francia negli altri stati appunto cristiani e quindi insisteva per ottenere queste confessioni tramite la tortura e il francescano appunto Rinaldo da Concorezzo scrisse a un certo punto con grande attenzione che era che non erano accettati e valide le confessioni fatte sia a seguito di tortura sia a seguito del timore della tortura perché sarebbero state inficiate dalla tortura stessa cioè la tortura non era un aiuto per comprendere la verità ma era un ostacolo quindi questa pagina fu una pagina luminosissima su cui giustamente anche Carlo Castignani pone la sua attenzione questo per quello che successe nei processi in Italia in Francia devo solo nominare perché nel 1310 si arrivò al rogo di oltre 54 templari a Parigi a cui seguirono vari altri roghi altrove successe proprio per la sovrapposizione dei due tipi di processi quelli contro l'ordine perché più di 650 templari si recarono a Parigi presso la commissione pontificia per testimoniare che il tempio era santo e innocente e confessando però questo quando furono confessati per così dire sentiti al concilio invece di di Sens vabbè come per essere sentiti e giudicati come singoli templari il Philippe de Marigny il nuovo arcivescovo di Sens fratello del potente ministro del re di Francia quindi pedina del re di Francia posto lì come arcivescovo dal papa a suppressione del re di Francia immediatamente andò a vedere le vecchie deposizioni scoprì che avevano confessato avendo confessato qualche cosa ma avendo poi difeso l'ordine sostenendo la sua innocenza presso l'altro processo decise che le due cose erano in contraddizione quindi loro erano relapsi cioè erano caduti in contraddizione avevano contravenuto alla loro stessa eresia erano tornati al vomito dell'eresia e di conseguenza legalmente però la cosa fu contestata anche allora li spedì sul rogo questa era la pena prevista per i relapsi i ricaduti e quindi siamo arrivati a questo a questi roghi che poi si completarono con le ceneri appunto di Jacques de Molay con perché Jacques de Molay possiamo dire ancora questo in conclusione perché Jacques de Molay fu finì sul rogo allora Jacques de Molay nel 1308 a Chinon come singolo templare aveva confessato ed era stato assolto c'è la celebre assoluzione di Chinon di Jacques de Molay era stato assolto dai cardinali e quindi dal papa ma solo dal punto di vista sacramentale cioè come sacramento dell'assoluzione non dal punto di vista giuridico la sua la sua sentenza dal punto di vista giuridico avvenne a opera del papa che delegò una commissione pontificia che decise di condannarlo alla prigione a vita e così nel 1314 il Jacques de Molay a Parigi fu convocato e si sentì dire che era stato condannato alla prigione a vita e lì insorse a questo punto divenne tecnicamente un relapso i commissari decisero di lasciarlo una notte per decidere che cosa fare di lui una notte a Parigi presso la prigione e il re di Francia saputa la cosa invece decise di farlo bruciare sul rogo e così finì Jacques de Molay bruciato sul rogo a Parigi nel 1314 il papa invece non attese al concilio di Vienne nel 1312 decise di non attendere la sentenza di condanna o di assoluzione che sarebbe stata data dal concilio dai padri del concilio ma per sua iniziativa decise di abrogare l'ordine di abolire l'ordine quindi non ci fu una sentenza perché il papa non emise nessuna sentenza e neanche il padre del concilio che dovevano farlo ma furono prevenuti a mio parere perché avrebbero invece assolto l'ordine e quindi il papa si sarebbe trovato in una posizione inaccettabile nei confronti del re quindi nel 1312 il papa abolì l'ordine del tempio certo guardi è una storia veramente terribile che infatti poi ha addirittura originato una sorta di leggenda di rinascita di interpretazioni a volte anche esoteriche che naturalmente rischiano di avvicinare i templari a Indiana Jones dico rischia perché uso questo verbo perché si finisce con perdere l'esatta natura della vicenda che invece è quello che gli storici devono ricostruire bene io a questo punto ringrazio ancora una volta Carlo Castignani ahimè assente al quale rinnovo auguri e salute ringrazio la gentilessima professoressa Simonetta Cerrini e ringrazio anche il centro studi storici non antolani non antolesi mi sbaglio non antolani mi sbagliavo per avere pubblicato questo libro la conversazione di oggi chi potesse risentirla resta pubblicata su youtube grazie a tutti vorrei se fosse possibile vorrei ancora far mostrare l'immagine della preziosa ritrovata diciamo documento anche di Carlo Castignani che si trova dell'abbazia di Nonantola appunto che si trova di cui un'immagine si trova esatto alla fine nella quarta di copertina del libro di Carlo Castignani questo è molto importante tra l'altro riporta anche un episodio molto significativo mi è piaciuto tantissimo del appunto di Rinaldo da Concorezzo che aveva ricevuto in omaggio diciamo da un templare mentre lo stava giudicando appunto una reliquia una stauroteca una reliquia di una croce templare e che poi al momento della restituzione dei beni perché tutti i beni poi andarono agli ospitalieri quasi tutti tranne che nella penisola iberica e allora lo stesso Rinaldo disse anch'io restituisco quindi questa preziosa reliquia che gli venne però lasciata quindi va bene grazie di nuovo professoressa e speriamo di averla di nuovo presto come ci diceva un tempo sui nostri schermi o anche in presenza qui a Pesaro grazie grazie a lei e ringrazio ancora anche Carlo Castignani bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti